Ed ora la pagina sportiva, calcio mercato della Pescara, Pescara che domani inizierà la sua preparazione. Per le ultime novità è tornato a trovarci in studio Massimo Profeta, che saluto. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Ascolto. Partiamo naturalmente dalla cessione di Facundo Lescano. Abbiamo parlato di questa trattativa con Dovizia e i particolari. Due giorni fa c'era stato già l'accordo tra la Triestina che è passata nei mani del fondo americano LBK Capital, insomma una società molto ambiziosa. Alex Menta, amministratore delegato italo-americano in continuo contatto con De Licari, hanno sistemato la situazione a livello contrattuale e poi è stata la volta del giocatore che si è messo d'accordo proprio nella giornata di ieri. Lescano passa alla Triestina, ovviamente a titolo definitivo, 350 mila euro più bonus al Pescara che potrà arrivare nei prossimi due anni a quota 600 mila. Il ragazzo ha firmato, firmerà un contratto triennale perché martedì svolgerà le rituali visite mediche, un contratto ricco per l'Escano circa 500 mila euro netti in tre anni senza considerare i bonus. Dunque il Pescara perde il suo capocannoniere, quello che ha l'attaccante che ha realizzato lo scorso anno 20 gol. Due anni fa era stata la volta di Franco Ferrari, Paolo insomma sembra destino, no? Franco Ferrari ha segnato 19 gol, è passato alla Vicenza, era di proprietà naturalmente del Napoli, e Facundo Lescano alla Triestina. Bisognerà cercare il sostituto, staremo a vedere perché oggi ci sarà un briefing di mercato tra Delicarri e Zeman, Zeman che è tornato ieri, ha già firmato il rinnovo, ieri c'è stato già il primo punto, nel pomeriggio di oggi continueranno a parlare perché è chiaro che Zeman, ormai è storia nota, punta tantissimo su Vergani, cioè il jolly cupone, però attenzione, a Delicarri piace tantissimo, la notizia è di oggi perché la trattativa sembra davvero calda, Cristian Tommasini, classe 98, 25 anni, compiuti lo scorso marzo, ha giocato nell'ultima stagione con ottimi risultati nel Taranto, 31 presenza e 8 gol, tra l'altro Paolo ha cominciato a segnare a fine novembre 8 gol in pochi mesi, sicuramente una buonissima stagione di proprietà del Pisa, ne sa qualcosa il Pescara, stiamo vedendo il gran gol di testa all'Adriatico Giovanni Cornacchia dallo scorso mese di dicembre, quando era appena iniziata la parabola discendente della Pescara di Alberto Colombo, due gol contro il Pescara, uno all'andata, uno al ritorno, Tommasini ha collezionato 130 presenze in Serie C con le maglie della Paganese, soprattutto del Ponte Nera, è stato compagno di squadra di Milani che ritroverebbe in Biancazzurro, ha giocato anche naturalmente nel Limolese e poi nel Taranto. Staremo a vedere, noi siamo stati in contatto con Fabrizio Ferrari, il suo agente, ci ha detto che la trattativa è molto ma molto concreta. Detto questo, ieri lo abbiamo scritto anche sul nostro sito, vi ricordo l'indirizzo www.rete8.it, il Pescara ha preso anche un altro giovanissimo sulla fascia sinistra, un classe 2004, Brando Moruzzi, a titolo definitivo dalla Juventus, eccola qui la foto, è un giocatore di cui si parla molto bene, non lo conosciamo naturalmente, però viene dalla Juve, lo scorso anno 18 presenze nel campionato primavera, ha anche militato in Serie D, due stagioni orsono, nella San Giovannese, 28 presenze un gol, dunque arriva a titolo definitivo con il 50% che la Juve manterrà in caso di rivendita futura del giocatore. Detto questo, c'è anche da aggiungere che il Pescara aspetta la risposta del Sassuolo per il play Federico Casolari, che è un classe 2003, è il capitano della primavera del Sassuolo, andrebbe a fare la coppia con Squizzato, diciamo che la trattativa sta per essere concretizzata, però si aspetta, ripeto, la risposta del Sassuolo. Russini sta in buy, perché bisognerà capire la posizione di Colai, se parte Colai, arriva Simone Russini, dal Padova c'è l'accordo totale, sia con il giocatore che con il club Patavino, del resto il giocatore è in uscita dal club biancoscudato, e finora bisogna dire che sono nove le operazioni. Ecco Massimo, proprio per queste operazioni ti volevo chiedere questo, noi sappiamo che Zeeman ama lavorare con i giovani, però qui si parla di linea verdissima, non verde, perché il meno giovane ha appena 22 anni. Infatti mi hai anticipato, sono nove le operazioni d'entrata, soltanto due prestiti in questo momento, perché l'obiettivo del Pescara è quello di patrimonializzare il più possibile, ci riferiamo al portiere Ciocci, prestito secco dalla Cagliari con valorizzazione, e all'attaccante 2004 a Cornero del Genoa. Ma te li dico velocemente, Pierno classe 2001, terzino destro, Ciocci 2002, portiere che arriva dal Cagliari, Moruzzi, ne abbiamo parlato poc'anzi, 2004, terzino sinistro dalla Juve, Squizzato 2002 dall'Inter, Denis Manu 2003, Mezzala, che si è messa in evidenza nel Matera in Serie D, Tugnov 2001, svincolatosi dalla SPAL, Merola 2000, ci mettiamo anche Merola perché naturalmente è stato preso a titolo definitivo, in realtà la formula esatta è prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato dal Pescara nel prossimo campionato, di fatto a titolo definitivo, Masala 2004, esterno d'attacco, come dicevi tu, la squadra giovanissima a Cornero 2004, e quindi sono in totale in questo momento nove operazioni in entrata.